Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del superanalotto che possede oggi martedì 27 gennaio. La ricevuta della giocata del superanalotto può vincere 3.560.617 euro. Sono agilizzate le operazioni relativa al concorso numero 12. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate. Con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo real via l'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo insieme a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 10. E ne arriva il secondo numero. Il secondo numero estratto è il numero 73. Dal terzo numero si inizia a vincere. numero 5. Terzo numero estratto è il numero 5. E ne arriva il quarto numero che ci parte verso i brevi importanti. Quarto numero estratto è il numero 59. Quinto e penultimo numero numero 66. Col sesto numero la sestina è completa. Sesto numero estratto è il numero 47. Abbiamo i 6 numeri che possono assegnare il jackpot. Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 53. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 10, 73, 5, 59, 66, 47 e il numero jolly è il numero 53. Ora passiamo al numero super stare, il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convide della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. E la sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica già caricata con le sfere dall'1 al 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero super stare premia anche lo 0, l'1 e il 2, moltiplica 25 volte le vincite del 5, 100 volte quella del 4 e del 3. Il numero super stare di questa sera è il numero 21. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 12 del super analotto con la sestina vincente in ordine crescente. 5, 10, 47, 59, 66, 73, il numero jolly è il numero 53, il numero super stare è il numero 21. E l'estrazione di oggi martedì 27 gennaio termina qui. Fra qualche minuto scopriremo insieme se il jackpot di oltre 3.500.000 euro è stato assegnato uno più vincitori. E noi vi aspettiamo sempre qui, se si usa il tv, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati su Sisal TV, la rete in diretta con la fortuna. Pochi minuti fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 12, che vi ricorda messo in palio il jackpot di oltre 3.500.000 euro. E anche questa sera il super analotto ha numerosissimi premi per voi. Infatti abbiamo 65.736 vincite. Da ora è arrivato il momento di scoprire insieme se ci sono uno o più fortunati vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. I 5 sono 3 e vincono 66.934 euro ciascuno. I 4 sono 645 e vincono 326 euro ciascuno. I 3 sono 25.564 e vincono 16 euro ciascuno. Ora passiamo a super stare. Il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 la premia anche con 0, 1 e 2 punti. Vediamo nel dettaglio tutte le quote. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 2 e vincono 32.683 euro ciascuno. I 3 stella sono 147 e vincono 1.610 euro ciascuno. 100 euro vanno i 1845 due stella. 10 euro e 12.283 uno stella e 5 euro 25.247 zero stella. E ora è arrivato il momento di scoprire insieme il jackpot del prossimo concorso. 4 milioni di euro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e il suo pronalotto vi do appuntamento giovedì 29 gennaio. Sempre qui, se sei già al tv, la rete in diretta con la fortuna.